Al grido di pronti partenza via alla scoperta dell'alluminio, gli studenti di alcune scuole secondarie di primo grado hanno partecipato all'iniziativa All Ready, invidiata dalla profiglass di Bellocchi di Fano per sensibilizzare i giovani sul riciclo di questo metallo. Dopo mesi di lavoro e progetti realizzati, gli elaborati sono stati valutati da un'apposita giuria e a risultare il più originale è stato il lavoro della seconda B della Padalino di Fano, che ha realizzato questo video nel quale i ragazzi hanno messo in scena attraverso un ballo il riciclo dell'alluminio, fase fondamentale del processo produttivo del metallo. Alla classe è stata consegnata ieri mattina una lavagna interattiva multimediale, la LIM però non è stato l'unico premio assegnato, in aggiunta a quanto previsto dal concorso infatti, l'azienda ha deciso di sottolineare l'impegno profuso da insegnanti e classi con un riconoscimento speciale, un personal computer di ultima generazione per le altre scuole partecipanti. Abbiamo coinvolto 17 classi di tre istituti differenti, quelli che poi hanno aderito al progetto, che sono la Padalino, che poi ha vinto, la Gandiglio e l'Istituto Gaudiano di Pesaro, quindi due scuole di Fano e una di Pesaro. Qual è stato il compito assegnato a questi ragazzi? Non abbiamo dato un compito con dei paletti precostituiti, quindi loro una volta che hanno visitato l'azienda si sono fatti venire molte idee, infatti gli elaborati sono diversissimi. All'interno dell'iniziativa sono stati organizzati sette incontri nelle scuole e 17 visite guidate agli impianti produttivi della Profiglass distribuite su nove date. In ogni giornata di visita l'azienda ha accolto due classi e messo a disposizione altrettante navette. Però devo dire che questo è stato per noi una sfida, ma un lavoro che ci ha restituito vitalità, energia e soprattutto ci ha messo alla prova con un lavoro di team e di squadra, che è stato capace di poi dare una risposta piacevole, crediamo, alle scuole che hanno gradito molto. Dopo una breve sosta in azienda per la consegna dei dispositivi personali di protezione, scarpe, giubbotto e caschetto per questioni di sicurezza, gli studenti sono risaliti sulla navetta per un giro nella viabilità interna dell'area produttiva con tre tappe didattiche. Infatti anche nella visita in azienda, l'azienda è molto grande, non era possibile in due ore poter visitarla tutta, abbiamo scelto proprio il reparto del riciclaggio, da cui parte il processo, il forno, quindi la fusione, che è un bel processo anche emozionante per i ragazzi, è una fase finale delle lavorazioni, in modo che in maniera molto raccolta i ragazzi avessero un po' un'idea di quelli che fossero i processi. Abbiamo voluto premiare, ha detto Silvia Paci, il grande interesse e la grande volontà manifestata dagli istituti che hanno accolto perfettamente lo spirito di un'iniziativa pensata per far conoscere ai più giovani un patrimonio di conoscenze e professionalità, tutto fanese, legato a un metallo completamente riciclabile e dai tanti utilizzi quotidiani. Vi ringrazio quindi ancora, complimenti per questo premio, spero che sia anche il primo anno di un'iniziativa che potrà ripetersi in futuro. È stato proprio un lavoro di squadra e devo dire ben riuscito, quindi grazie a voi e grazie ragazzi e complimenti ancora. Grazie.